L'industria chimica Unilever di Pozzilli rischia la chiusura. A fine mese una delegazione del PD regionale sarà ricevuta al Ministero dello Sviluppo Economico. Situazione di inciviltà nel calcere di Campobasso per mancanza di personale infermieristico, tensioni e rischi per la salute dei detenuti, chiesto l'intervento dell'ASREM. 2 milioni e mezzo di euro inseriti nel bando Turismo e Cultura promosso dalla Regione. Sono stati illustrati oggi i dettagli del progetto al Palazzo dell'Agile del Capoluogo. La Magnolia Campobasso si gioca una fetta del primato nella A2 di basket domani sul parquet in Romagnolo del Faenza nel calcio di Serie C. Siamo alla quarta di ritorno. Buonasera dalla redazione giornalistica di TLT. Il segretario del PD regionale Vittorino Facciolla sostiene che la chiusura di Unilever al numero industriale di Pozzilli è oramai cosa certa. In verità le principali sigle sindacali già da tempo hanno cercato di dare l'allarme ed è a rischio la perdita del posto di lavoro di circa 200 persone, 400 se si considerano tutti coloro che gravitano attorno all'indotto creato da Unilever. Il silenzio delle istituzioni ed in particolare sia del Presidente Toma e dell'assessore Mazzuto in merito a questa vicenda peggiora la crisi che attanaglia il numero di Pozzilli, ha detto Facciolla. Il 30 gennaio alle ore 16 fissato un incontro a Roma con le organizzazioni sindacali presso il Ministero del Sviluppo Economico con il sottosegretario Alessia Mora per trovare una soluzione positiva. Le operazioni dei carabinieri indirizzate al contrasto dei reati e contro il lavoro nero proseguono e dunque gli ultimi interventi li hanno visti impegnati a Campomarino, in altre zone del Basso Molise e nei territori di Riccia e anche di Baranello. Vediamo questo servizio. Continua senza sosta l'attività dei carabinieri al fine di prevenire e contrastare i reati, soprattutto quelli relativi allo spaccio di stupefacenti, all'utilizzo di forza lavoro in nero e senza alcuna tutela di carattere sanitario. L'ultima notizia riguarda i militari della compagnia carabinieri di Termoli, nello specifico della stazione di Campomarino, che hanno durante il servizio di controllo fermato una donna di 22 anni proveniente dalla provincia di Foggia. La donna, che pur giovane risulta già nota alle forze dell'ordine, è risultata avere occultato ben 18 dosi di cocaina e 5 dosi di eroina. Di conseguenza la droga è stata sequestrata e la giovane è stata arrestata e associata alla casa circondariale di Chieti. Di altra natura, l'operazione è attuata dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Campobasso, che hanno riscontrato in due distinte aziende agricole, Arrice e Baranello, la presenza al lavoro di tre lavoratori in nero, di cui uno clandestino di nazionalità indiana, a cui è stato imposto il rimpatrio. Per i titolari delle due aziende scattano anche delle sanzioni per un ammontare complessivo di 9.400 euro. Anche un'attività di ristorazione ubicata nel Basso Molise è stata sottoposta a controllo. Si serviva di lavoratori in nero e per questo è stata sospesa dall'attività commerciale e multata per circa 6.000 euro. I carabinieri di Isernia hanno denunciato un quarantenne ed un 55enne originari dell'Interland napoletano, di cui uno già noto alle forze dell'ordine. I due fissavano, dal mese di maggio 2017, le rispettive residenze in un piccolo comune pentro, in un appartamento disabitato, riuscendo ad ottenere un risparmio di spesa di circa 30.000 euro sulle polizze assicurative e degli oltre 30 veicoli, alcuni dei quali mezzi pesanti e complessivamente posseduti. A Doratino, dopo la delibera votata all'unanimità dal Consiglio Comunale relativa all'installazione di un ripetitore di telefonia mobile e in cui si rilevano alcuni vizi nelle procedure, il responsabile del procedimento, l'ingegner del Greco, ha emesso un provvedimento di sospensione temporanea fino al 31 di marzo dell'autorizzazione alla posa della stazione radio base da parte della società telefonica Wind 3. Questa mattina il personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuto per rimuovere le antenne radar e VHF collegata sul pilone nel cortile della vecchia sede dell'Istituto Tecnico Nautico a Termoli. L'intervento, effettuato, concordato con il dirigente scolastico, vuole essere riprova del profondo spirito di collaborazione tra le istituzioni dello Stato a servizio dei cittadini. E' stato bocciato dalla Commissione parlamentare l'emendamento al decreto 1000 proroghe che prevedeva il raddoppio delle corsie della Bifernina scatenando reazioni divergenti nella politica. Vediamo perché in questo servizio. La superstrada del Molise a quattro corsie non si farà, almeno per il momento. La Commissione parlamentare chiamata a vagliare l'emendamento da inserire all'interno del decreto 1000 proroghe l'ha giudicata inammissibile, scatenando in regione una dialettica politica serrata su tutti i fronti. Secondo l'ex governatore Michele Iorio, oggi consigliere regionale, l'inammissibilità rappresenta una sonora bocciatura. Il giudizio di Iorio, che da tempo è fra i maggiori oppositori di Donato Toma, è che l'orgoglio del Molise oggi viene mortificato da un centrotestra che di questa politica possiede solo il nome, ma non l'animo, lo spirito e gli obiettivi. Di parere diverso è invece il portavoce alla Camera del Movimento 5 Stelle, Antonio Federico, che spiega quali sarebbero le ragioni dell'inammissibilità. Secondo il pentastellato, infatti, gli investimenti infrastrutturali si programmano e si concertano con il governo, i ministeri e l'ANAS e non con estemporanei interventi legislativi pensati solo per far clamore. Una situazione delicata che nasce da un problema tecnico di inammissibilità che è già diventato una lotta politica che non si estinguerà tanto facilmente. Martedì 28, il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, sarà in visita in Molise su invito del Partito Democratico. incontrerà in mattinata a Termoli la dirigenza aziendale della FCA per poi spostarsi ad Agnone per visitare l'ospedale San Francesco Caracciolo. Nel primo poveriggio, sempre ad Agnone, sarà alla Pontificia Fonderia Marinelli e in seguito a Capracotta, dove interverrà all'incontro istituzionale dello SNAI dal titolo Riaprire la partita delle aree interne. Colture a rischio per via delle temperature elevate rispetto alla media stagionale. Grido d'allarme da parte dei coltivatori che temono improvvise gelate. Vediamo. Un inverno anomalo, troppo mite, che sta mettendo a dura prova l'agricoltura. Urgono piogge, temperature più basse, altrimenti si rischia di perdere gran parte della produzione ortofrutticola stagionale. A lanciare l'allarme, gli agricoltori della regione, dai cereali alla frutta prodotti a rischio, i coltivatori hanno dovuto ritardare la semina di oltre due mesi a causa della durezza delle campagne rimaste aride e quindi impossibili da lavorare per insufficienza di piogge autunnali. Una situazione che potrebbe aggravarsi se dovessero arrivare delle imponenti ed improvvise precipitazioni. La violenza dell'acqua trasciderebbe via i semi, impedendo loro di germogliare o spazzando via quelli che hanno cominciato a spuntare dal terreno. Molti alberi da frutto poi sarebbero pronti alla fioritura. Un brutto colpo, spiegano i contadini, in caso di gelature infatti brucerebbero azzerando l'intera produzione. È un appello, quello che arriva per Serena, una ragazza di 17 anni che ha necessità di un trapianto di midollo. Sono ore di apprezzione per Serena che ha scoperto di essere affetta da una malattia molto rara per la quale appunto c'è bisogno di un trapianto di midollo. La ragazza è affetta da anemia aplastica, ovvero conosciuta anche come aplasia midollare ed è tuttora ricoverata dal bambino Gesù di Roma. L'appello è per tutte le persone, comprese tra i 18 e i 35 anni, iscritti al Registro Europeo per le donazioni di midollo. Per maggiori informazioni basta andare sul sito Admo. Italia Viva, la nuova formazione politica voluta da Matteo Renzi, arriva in Molise. Due i coordinamenti territoriali retti da altrettanti coordinatori, uno relativo alla provincia di Campobasso con Mariangela Bellomo e l'ex sindaco di Santa Croce di Magliano donato d'Ambrosio, l'altro relativo alla provincia di Sernia con Giulia Di Silvestro e il sindaco di San Pietro Avellana Francesco Lombardi. Il sindacato di Polizia Penitenziaria denuncia la carenza di personale sanitario all'interno del carcere di Campobasso, una situazione che rischia di compromettere ulteriormente la sicurezza all'interno dell'istituto. Vediamo il servizio. La situazione precaria del carcere di Campobasso preoccupa il sindacato di Polizia Penitenziaria che denuncia la carenza di infermieri all'interno della struttura. Una situazione che sembrerebbe causare l'impossibilità di effettuare visite specialistiche per i detenuti e di prenotare visite ed analisi presso le strutture esterne, creando di fatto un grave pregiudizio all'ordine ed alla sicurezza dell'intero istituto. A far luce sulla questione, il segretario del sindacato Aldo Di Giacomo. Dal 31 dicembre che non sono stati rinnovati i contratti ai due infermieri, la situazione del carcere di Campobasso evidentemente si è aggravata perché i detenuti non riescono più a prenotare le visite e a fare le visite già programmate. Questo di fatto crea una situazione di rischio all'interno dell'istituto perché c'è molta tensione. Mi risulta che i detenuti abbiano già scritto sia al garante e sia al tribunale di sorveglianza per evidenziare questa situazione. Io ritengo che sia una situazione di inciviltà, ma una situazione molto grave che poi si può ripercuotere sull'operato della polizia penitenziaria che è costretta a fronteggiare tutti questi malumori. Per questo noi abbiamo chiesto una lettera scritta all'Azrem di intervenire, ma oggi è lettera morta. Per questo se non avremo risposte entro brevissima, entro una settimana saremo costretti a manifestare di nuovo sotto l'Azrem perché all'interno del carcere non è consentibile una cosa del genere ma soprattutto questo non si verifica. Io sto su tutto il territorio nazionale in altre regioni. Soluzione nel breve tempo? La soluzione è quella che l'Azrem mandi due infermieri rinnovi il contratto. C'è stata una stabilizzazione negli ospedali, mi risulta, ma nel carcere no. Il carcere, secondo me, deve avere priorità tenendo conto di tutto quello che rappresenta. Strade, illuminazione, fibra ottica, sistema fognario. L'area industriale compresa tra Miranda e Isernia è fortemente carente dei servizi e anche alle imprese. Occorre svoltare al più presto. Vediamo. Con noi io sono i servizi Cifolelli, l'amministratore della Cifolelli Edilizia qui nel nucleo industriale di Miranda. La sua azienda ha suonato il campanello. Ci sono delle carenze in questa zona industriale e voi avete sollicitato con la collaborazione anche delle altre aziende che operano in questo territorio, avete chiamato le istituzioni. Come stanno le cose? Che vi hanno detto? Che cosa ci serve? Ebbene sì, noi abbiamo organizzato con le aziende facendo parte del PIP di Miranda due meeting. Uno il 19 settembre del 2019, l'altro il 18 gennaio, quindi sabato scorso. e hanno partecipato a questi incontri ha partecipato l'amministratore del comune di Miranda e nel secondo incontro abbiamo coinvolto anche il comune di Segna poiché abbiamo appreso che è loro intenzione quella di realizzare un'area PIP a confine con l'area PIP di Miranda e loro hanno accolto in maniera positiva e si renderanno disponibili ad affrontare le problematiche poiché c'è una carenza oggettiva di servizi quindi manca un imbiato di illuminazione la fogna manca la linea fibra ottica le indicazioni stradali il totem con la posizione dei cartelli delle aziende facendo parte del PIP e quindi è necessario che in qualcosa si faccia le strade vanno ripristinate i tappeti stradali e è bene che si riveda l'ingresso dell'area PIP è necessario che queste opere si facciano. Se i tempi si dovessero allungare c'è anche qualche azienda che minaccia di andare via? Ebbene sì purtroppo qualche azienda ha manifestato la volontà di localizzare qualora non si ripristinano queste condizioni. La cosa più importante la prima cosa da fare secondo lei quale sarebbe? Ma io direi subito l'impianto di illuminazione perché sono attività aperte al pubblico e quindi è necessario che l'area sia illuminata insomma è rischioso lasciarla così. Al caffè letterario di Via Veneto a Campobasso domani si terrà l'incontro con Antonello Guerrera giornalista della Repubblica e corrispondente da Londra inoltre verrà presentato il libro Il popolo contro il popolo perché dopo la Brexit la democrazia e l'Europa non saranno più le stesse appuntamento alle ore 17 incontro formativo sul bando regionale turismo e cultura oggi al Palazzo Gil di Campobasso presenti sindaci rappresentanti di associazioni e fondazioni molisane vediamo il servizio Sindaci rappresentanti di associazioni organizzazioni e fondazioni oggi a raccolta al Palazzo Gil di Campobasso tutti intenti ad ascoltare i dettagli della nuova edizione del bando 2020 di turismo e cultura a disposizione risorse per promuovere eventi e manifestazioni sul territorio fino al 31 dicembre prossimo a parlarne l'assessore regionale a Ramo Vincenzo Cotugno il progetto turismo e cultura 2020 prevede 2 milioni di euro il bando già è stato pubblicato oggi è una giornata formativa e informativa abbiamo invitato tutti e 136 sindaci con l'impegno e l'invito a estendere l'invito ovviamente a tutti gli stakeholders del territorio le associazioni proprio per parlare del bando dei criteri del bando e cercare di sensibilizzare ad aumentare quella che è la qualità progettuale ed alzare l'asticella dell'offerta turistica nella nostra regione sempre di più noi abbiamo delle grandissime manifestazioni che sono storiche del nostro territorio altre che sono innovative l'offerta è molto variegata noi vogliamo prediligere una grande offerta culturale e turistica che possa essere di politica ed in coming nella nostra regione la regione morise va conosciuta io dico sempre che i sapori e i profumi della nostra terra vanno vissuti portando la gente nel morise queste manifestazioni e questo cartello turismo e cultura 2020 va in quella direzione questo è il terzo bando di turismo e cultura è una fase migliorativa sempre perché noi siamo aperti al confronto e quindi ogni anno cerchiamo di eliminare quelle che potevano essere delle diciamo incomprensioni dei bandi precedenti per cui la parola d'ordine è l'ascolto ma soprattutto la condivisione con il territorio in ricordo degli ebrei e di alcune minoranze internate in Molise dal regime nazifascista a Campobasso giornata dedicata al tema della memoria ma anche per presentare gli studi aggiornati in ambito storico ascoltiamo le considerazioni del presidente nazionale dell'associazione opera nomadi Massimo Converso siamo con il presidente nazionale dell'associazione opera nomadi per parlare della deportazione e di tutti diciamo i dispiaceri e i dolori che hanno avuto i deportati del Molise c'erano i campi di concentramento fascisti si pensa che sia esistito solo Auschwitz o Dachau o Mauthausen invece il regime fascista instaurò ben prima della guerra dei campi di concentramento da Cosenza dove era il più grande Ferramonti fino al nord Italia in Molise e in Abruzzo erano numerosi ma anche a Campobasso città furono deportati rinchiusi una serie di famiglie ebraiche per la sola colpa di essere ebraiche in Molise la maggior parte dei deportati dall'assurda guerra in Jugoslavia un paese che non ci aveva aggredito erano slavi soltanto per il fatto di essere slavi furono deportati in questi campi in Molise fra cui alcuni rom della Jugoslavia poi furono chiusi anche non molti rom del Molise e dell'Abruzzo non molti però c'erano diversi rom deportati dalla Jugoslavia in Italia contemporaneamente oggi è la prima manifestazione complessiva che parla della deportazione di ebrei slavi rom sinti omosessuali e disabili e questo è il contenuto forte che non ci sono stermini serie A e serie B a questo scopo posso con estrema soddisfazione dire che la nostra battaglia per avere una carta di intenti del governo italiano su tutti gli stermini è stata vinta nel senso che è uscita ed è stata firmata a Cracovia gli organismi del governo sono il Ministero dell'Istruzione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziali ha firmato questa carta d'indenti c'è stato un refuso purtroppo la parola disabili è saltata naturalmente l'associazione disabili è in lacrime ma noi crediamo che il governo italiano senz'altro provvederà a integrare per la prima volta che si parla con un documento ufficiale dello sterminio degli omosessuali e dei romsindi assieme a quello dai fratelli ebraici e dei fratelli slavi e naturalmente i partigiani e gli eroici militari italiani che si rifiutarono di arruolarsi nell'esercito collaborazionista di Salò domani domani alle ore 16 a Tavenna si parlerà degli orrori del lager di Auschwitz fino alla liberazione dal nazifascismo nella primavera del 1945 sono attesi gli interventi degli esponenti di Libera Molise associazione Giuseppe Tedeschi e Ampi illustrato oggi il progetto finanziato dall'Unione Europea che interviene nella zona del torrente Quirino nell'OASI WWF di Guardia Regia Campo Chiaro vediamo il servizio Il canyon del torrente Quirino situato nel territorio dell'OASI WWF della riserva regionale di Guardia Regia e Campo Chiaro rappresenta un ecosistema di straordinaria biodiversità dalle caratteristiche uniche sia per la presenza di particolari vegetazioni che per le conformazioni geologiche e morfologiche a questo riguardo si può tranquillamente affermare che è uno dei più interessanti ambienti di forra del massiccio del Matese e dell'intera catena appenninica bisogna ricordare che le forre sono di fatto delle profonde gole a pareti verticali e avvicinate tra le quali scorrono i corsi d'acqua la notizia è che si è dato vita ad un progetto denominato l'ASPE che nell'ambito di un finanziamento dell'Unione Europea riguardante la protezione ambientale la gestione del rischio e le strategie per ridurre le emissioni di carbonio ha permesso di concentrare l'attenzione proprio su quel canyon cercando innanzitutto di acquisire informazioni e migliorare la conoscenza scientifica trovando il modo e la maniera di un successivo recupero naturale soprattutto di alcune porzioni della gola quelle più degradate rappresentate per lo più da quelle utilizzate purtroppo fino a pochi anni fa come aria destinata a raccogliere rifiuti di varia tipologia uno studio dell'area che è risultato fondamentale per ispezionare l'intera forra individuando i punti di maggiore concentrazione di rifiuti e stabilendo così le migliori modalità per la loro bonifica dal comune di guardia reggia dall'oasi del WWF e dagli apparati tecnici giunge la comunicazione che si è arrivati all'ultimo miglio del cronoprogramma del progetto appunto sulle gole del torrente Quirino con la chiusura dei lavori di bonifica della forra con il recupero di grossi materiali incompranti che verranno prelevati grazie all'utilizzo di un elicottero dedicato ed attrezzato allo scopo La guerra del clima tra interessi fossili e la lotta per salvare il pianeta Terra questo l'argomento dell'incontro serale alle 18.30 alla Casa del Popolo a Campobasso ospite il fisico e il ricercatore Giuseppo Onufrio direttore per l'Italia di Greenpeace e adesso come ogni sera vediamo cosa ci dice e cosa ci dicono le previsioni del tempo La gamma commerciale tutta l'energia che ti serve è in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo Sole e tempo stabile oggi sul Molise dalla sera cielo generalmente è poco nuvoloso le temperature sono comprese tra i 5 gradi di Isernia e la massima di 13 a Termoli ventilazione debole di direzione variabile adriatico centrale quasi calmo domattina è previsto cielo coperto sulla regione valori climatici stazionari correnti sud occidentali siamo allo sport palacanestro femminile di A2 sfida di A2 sfida al vertice domani tra Faenza e Magnoli a Campobasso Romagnoli sempre vittoriose tra le muramiche e molisane senza macchie e lontane dal palavazieri un match importante tra due quintetti che giocano una palacanestro piacevole e in grado di appassionare i propri tifosi il Falenza nello scorso turno ha visto interrompere la lunga scia positiva sul parchè di Ariano Irpino la Magnoli invece viene dal netto successo sul Civitanova Marche infine nella finale A8 di Coppa Italia in programma a Moncalieri dal 6 all'8 marzo la Magnoli incontrerà la formazione milanese del Carugate parliamo di calcio allo stadio Civitelle di Agnone dopo domani Granata dell'Olimpia ospiteranno il Chieti nel turno precedente i teatini hanno patito una clamorosa sconfitta interna per mano del porto Sant'Elpidio vediamo il servizio esordio dal primo minuto per il nuovo innesto Polletta il tecnico tranese propone Baggi Galupo alle spalle di Traini e Sibilla partono dalla panchina invece Sarrizu e Camara al primo fondo il porto Sant'Elpidio è già avanti con Riccardo Cucù e solo il primo gol di una lunga serie in una giornata da cancellare in fretta per il Chieti che a dire il vero nel primo tempo conduce almeno in quanto ad occasioni costruite la sponda di Baggi Galupo per Sibilla salva sulla linea di Portafrinconi quindi Morazzini ad immolarsi su Baggi Galupo a sbarrare la strada sulla testa di Michael Traini invece Federico Gagliardini ma sostanzialmente meglio i neroverdi nello scorcio centrale e ancora Traini area di rigore stavolta per Dicillo Gagliardini ad evitare il pareggio difetta in lucidità sotto porta il Chieti che protesta per un braccio sospetto in area di Ficola ma subisce il raddoppio 0-2 realizzato da Nicolas Fermani qui le responsabilità sono da condividere tra le maglie difensive teatine troppo larghe il portiere Stefano Bruno ma non è finita il 3-0 siglato da Francesco Maio l'anno scorso la Torrese prima dell'intervallo su calcio di punizione anche qui l'ex estremo difensore della Re Canatese non è esente da colpe è ormai congenito nel DNA del Chieti il gol al passivo a inizio ripresa così un'altra vecchia conoscenza del calcio bruzzese Mattia Ruzzie pialla il risultato e ora sono 4 Porto Santelpidio che Mara maldeggia e azzanna una difesa in stile cere di Madame Tussauds Traini vuole quantomeno l'1-4 ma senza successo prima della cinquina della scheggia indiacate nianè imprendibile in velocità esiste anche Ricci il senegalese circunnaviga Stefano Bruno ultimo ostacolo prima del 5-0 che fa calare il gelo sul comunale di Ortona adesso si diluvia sul bagnato Bruno evita il 6-0 su Cucu nianè non infierisce su un Chieti che si sgretola inesorabilmente la figuraccia di Ortona assume dimensioni preoccupanti urge una scossa a questo punto il finale Chieti 0 Porto Sant'Elpidio 5 Pineto e Vasto Girardi si affronteranno domenica in terra abruzzese entrambe giungono all'appuntamento in un soddisfacente stato di forma vediamo in queste immagini il successo degli Adriatici contro la Sangiustese domenica scorsa gli abruzzesi hanno fatto quello che dovevano fare gestione della partita correre pochi rischi e colpire al momento opportuno potevano chiuderla prima senza soffrire sino al 94esimo ma sulla legittimità della vittoria nessuno può avanzare obiezioni sono stati i biancazzurri di Daniele Amaulo infatti ad avere un possesso palla decisamente superiore per tutta la gara eppure il primo brivido lo provoca il baby Ercoli ragazzino classe 2002 da tenere d'occhio che non inquadra lo specchio della porta la posizione comunque defilata il primo tiro degli ospiti è dei Marianeschi al 13esimo che non crea alcun problema a Chiodini di ben altro spessore invece a livello di pericolosità la conclusione di a quadro dal limite risolta comunque da Chiodini che guarda la traiettoria del pallone terminare a lato il Pineto conserva il comando delle operazioni da centrocampo anche per l'assenza di Proismans la differenza si vede tutta Chiodini ancora reattivo su un'insidiosa conclusione di Tomassini poi alla mezz'ora la Sangiustese si fa viva con un'incursione di Fabri sulla fascia traversone per la conclusione di Palladini che rimpalla su Buonaventura prima e sul difensore Orlando Poi qualche protesta di Rossoblu ma l'arbitro lascia proseguire resterà questa l'unica vera chance per gli uomini di Campedelli nella prima frazione gli ospiti poi riprendono a macinare gioco Prosti della Quercia scordinato Tomassini non riesce ad imprimere la traiettoria giusta al pallone avrebbe una buona possibilità Palladini allo scadere ma spreca tutto sparacchiando a lato nella ripresa al nonno arriva il gol partita propiziato da un'azione di due giovanissimi Marini rimetta al centro e Campuone di testa assolutamente indisturbato in sacca sul palo lontano passano tre minuti e Dell'Aquila sfiora il pari con un tiro a scendere dal limite che colpisce in pieno la traversa al quattordicesimo poi su un invio di Amadio Chiodini esce a valanga su acquadro ed il direttore di gara Migliorini di Verona non può far altro che mandarlo anzitempo sotto la doccia entra il secondo portiere Raccio al posto di Ercoli e subito deve intervenire per deviare in angolo la punizione di acquadro la Sangiustese non ha le possibilità per rendersi pericolosa nonostante i tanti cambi e la generosità messa in campo in un paio di occasioni il Pineto sfiora il raddoppio con Bianciardi prima ed ancora con Campuone sfruttando gli spazi lasciati dai padroni di casa su una punizione al novantaquattresimo che finisce sulla barriera terminano le speranze della Sangiustese che ha mostrato lo spirito giusto di chi vuole salvarsi ma al momento la rosa è quella che è ed i valori oggettivamente sono modesti per la società di nuoto H2O risultati positivi all'undicesima edizione del trofeo città di Portici medaglia di bronzo nei 100 e argento nei 200 rana per Fausto di Niro invece Giovanni Carmelino scende sotto i 34 secondi nei 50 metri stile libero medaglia d'oro e primato personale per Roberto Petrera un minuto e 23 secondi nei 100 rana era l'ultima notizia io vi ringrazio per essere stati con noi e l'appuntamento è per le prossime edizioni arrivederci a presto a presto Grazie a tutti.